Si è conclusa positivamente la festa della musica a Porta Empedocle, con tre appuntamenti che ha visto il gradimento del pubblico che ha affollato la torre Carlo V, dando così inizio all'estate Empedoclina 2024, sabato l'esibizione del Miss Quintet con Francesca Velotti cantante, Tano Ferlisi alle tastiere, Alessandro Scibetta al sax, Tonino Bruccoleri alle percussioni e Carlo Scibetta al basso e voce. Con ogni voce ascolta e non sei tu Dove sei venuto amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò Io cerco in vano, si rivedrà Il primo amore non si può ascoltar È scritto un nome, un nome solo in fondo al cuore Io conosciuto ed ora so che sei l'amore Il vero amore, il grande amore A me ne va per la città Ma so tra la bolla che non sa E non vede il mio dolore Cercando te, sognando te Che più non ho Mentre nella serata conclusiva di domenica L'esibizione di Carmelo Salemi Quartet con Roberto Macri al pianoforto, Antonio Laima a contrabbasso, Michele Territo alla batteria e Carmelo Salemi alla tromba Un appuntamento che si rinnoverà a detta del Presidente della Proloco Paolo Savatteri anche il prossimo anno Un appuntamento che si rinnoverà a detta del Presidente della Proloco Paolo Savatteri anche il prossimo anno Un appuntamento che si rinnoverà a detta del Presidente della Proloco Paolo Savatteri anche il prossimo anno La prossima Chia prominentare la tornarePN'e Chiaello italiana GERSAL Grazie a tutti.